Mamu Mask, questo è il nome del primo festival internazionale delle maschere che si terrà a Mamu Iada dal 15 al 17 giugno. Un ricco programma di manifestazioni promosso dal Museo delle Maschere Mediterranee e dalla Proloco, col supporto scientifico dell'Isre e del distretto culturale del Nurese, ma anche in collaborazione con le amministrazioni comunali di Mamu Iada, Ottana e Rotelli e con tante associazioni del paese e del territorio. Un evento che vuole fare il punto sul carnevale sulle maschere in Europa, con la partecipazione alle manifestazioni al convegno scientifico intitolato Maschere e Carnevali del mondo contemporaneo, in programma sabato a nuoro nel Museo del Costume e di studiosi e maschere provenienti da Portogallo, dal Museo del Trentino e dalla Bulgaria. Mamu Mask sarà anche l'occasione per l'inaugurazione di una nuova ala del Museo del Costume dedicata alle maschere, cui è stata aggiunta anche una sezione dedicata agli strumenti musicali. Il programma della manifestazione è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nella Biblioteca dell'Isre. All'incontro sono intervenuti Giuseppe Pirisi, presidente dell'Isre, Manuel De Logu, direttore generale dell'Isre, Mario Paffi, direttore del Museo delle Maschere di Mamu Iada, Giannino Pugioni, storico componente della Proloco, Paolo Picqueredu, come già direttore generale dell'Isre, Franca Rosa Contu, responsabile dei musei dell'Isre, che ha anche curato l'allestimento di quella delle maschere, che nel 2015 era stato smantellato. L'inaugurazione di quest'ala è in programma sabato alle 12.30. Il ricco programma di eventi prevede l'inaugurazione del Festival Mamu Maschi venerdì alle 16.30 presso la sede del Museo delle Maschere di Mamu Iada, da cui si dipaneranno tutti gli eventi che coinvolgeranno non solo i Mamutones e i Sogadores, ma anche Boes e Merdules di Ottana e Turpos di Orottelli. A Mamu Iada sabato verrà inaugurata la Via delle Maschere, mentre la sera alle 18 in programma a Notte Nigheda, cura dell'Associazione Mamu Iada, con l'apertura delle cantine e la degustazione dei vini. Domenica mattina a Mamu Iada verrà presentata la maschera portoghese dei Carotteros di Podans, mentre alle 17 ci sarà la sfilata delle maschere tradizionali. Una tre giorni dedicata alle maschere per ribadire un concetto, il Carnevale in Sardinia e in Europa e Vivo rappresenta ancora un momento di grande aggregazione tra le popolazioni di confronto con le proprie radici storiche, ma anche ancestrali.